Attenzione! Attenzione! In questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o a persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. E' un fiuto così! Nel senso che con i loro fiuto di investigatori hanno capito che c'era qualcosa che non andava. Stiamo parlando di un pusher di 35 anni, infatti è accaduto a rigoli il dubbio e il campo sull'ipotesi che possa essere inventata, no, c'è anche il verbale, l'uomo è stato fermato in auto. Ma voglio dire che tutto è esaurito e bravo, e ti piacerà, ti piacerà, ti piacerà, ti piacerà, ti piacerà. Non è che c'è proprio un coglio, ma non è ma di con i grossi. Non è che c'è proprio un po' di più. Ma questo è un po' di odio! Ah, c'è proprio un po' di me. Ma mamma puta! Ah, vieni, 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 vieni. Grande! Oh, grazie! Oh, grazie! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E porca in un'esclamazione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti